E' uno schifo, una vergogna, è una cosa inconcepibile. Non c'era preparazione, non avevano portato i sacchi, li avevano portati via dall'ultima volta invece di lasciarceli. Speriamo che il comune o la regione si hanno i soldi da stanziare per dare una mano, perché veramente... Non hanno fatto un cavolo, non hanno fatto un cavolo, pulire i tombini, fare qualcosa, no. Aspetta sempre che ci sia il morto prima di fare le robe. Dopo una notte da treggenda è il momento della rabbia a ridosso di Piazza Giorgione, per la seconda volta in meno di un mese e mezzo, finita nuovamente sott'acqua. Il salotto buono della città, trasformato in piscina, in via Romanina, nei garage di questa palazzina, la forza dell'acqua ha mandato in frantumi i vetri dei finestroni. I residenti, memori della prima ondata del 16 maggio, sono riusciti a mettere in salvo le auto, ma non tutte, ingentissimi danni. Andrea Querin è amministratore del condominio. Tra ascensori e quant'altro, tranquillamente saremo intorno ai 50.000 euro. A noi serve un'ora, un'ora e un quarto di preavviso, con questo noi avremo contenuto del 90-95% le problematiche. Stesso copione, forse peggio, in via Regina Cornaro, proprio a ridosso della Venale. Non sapevamo più come arginare. L'acqua è arrivata a questa altezza qua, e quindi, e dopo l'abbiamo mandata tutta quanta in piazza. Abbiamo mezzo metro d'acqua giù in cantina, con tutti gli impianti. Sì, è un disastro, insomma. Basta farsi una camminata e la situazione è nuovamente tragica. Da un lato si pulisce, dall'altro si contano i danni, come in questa sanitaria. Se dico quello che ho dentro, mi devi chiudere la comunicazione, perché veramente esasperati. Anche perché questi danni qua non ce li rimborserà nessuno. L'assicurazione, se non fai una polizia specifica per l'alluvione o i terremoti, non ti rimborsano. Cosa che non ha funzionato? Chi lo sa, forse troppa acqua, o forse anche hanno avvisato in ritardo, secondo me. Un quarto d'ora è venuta su e quindi nessuno se l'aspettava e adesso dobbiamo tirarci sulle maniche, come l'altra volta e speriamo basta per quest'anno. Devo sinceramente ringraziare dei ragazzi, penso sia del parco di Borgopieve, che sono stati bravi perché ci hanno aiutato, hanno portato dei sacchi. In centro storico così è allucinante, è una cosa di questo tipo. Mi sembrava essere la Venezia. A un certo punto c'è stata un'immagine che stavo bevendo il caffè in pasticceria alle 3 del mattino che ci ha offerto il caffè, seduto, guardavo fuori e ho detto ma siamo a Venezia o siamo a Castelfranco? È pazzesco, incredibile. L'acqua non finiva mai. Grazie. Grazie. Grazie.